Il caffè è corto, con tanto zucchero, per festeggiare questa vittoria. Di chi? La vittoria dell'artista che ha vinto questo... Un po' caccia. Vabbè, prendi anche un po' caccia. Del giovane. Del giovane. L'evergreen. L'evergreen, ovvero Roberto Vecchioni che ha vinto questo... Sistantesimo. Sistantesimo. Pessimal di San Paolo. Esatto. Come sentite... Questo è corto e il tuo. Grazie. Ecco, grazie. Ecco, tu vedi, lo giri con questo, invece Patti Fravo gira con una penna. Con una penna, è vero. Perché ricordiamo oggi pomeriggio cosa abbiamo fatto per l'esclusiva Radio Luz. L'intervista a Patti Fravo che ascolterete prestissimo sulle nostre frequenze. Samantha è ubriaca, però shh. No, Samantha stava per Albano. È ubriaca di gioia. Samantha stava per Albano quando l'ha vista tra i primi tre, a cui c'è la vera, a fare festini. Esatto. Vabbè, ci siamo dimenticati di dire che è arrivato secondo, che cercate in tutti i modi di censurare, no, assolutamente, a Emma in modà, o meglio, modà con Emma, con la canzone Loro arriverà. Sì. Quindi diciamo, la Golden Share pure qui, come ieri per Gualazzi, che ha vinto tutto, la Vittoria è qui, ha vinto tutto, tutto, e Ranieri, prossimo conduttore del festival di Sanremo. Byron. E Samantha l'anno prossimo, ragazzi. Però ti servirebbero rose rosse. Al posto della Canalys, volendo. regalerà delle emozioni, secondo me, l'anno prossimo. Sì, secondo me sì. Ci troveremo, secondo me, con una speciale pianta l'anno prossimo qui a Sanremo. Mi madre. Comunque, siamo stati bene, ci siamo trovati bene. Questa è la sala stampa che ha condiviso con noi questa avventura, con tutti i partecipanti. E tutti questi ragazzi, questi giochi. Ciao Alessandro. Ciao Luiz. Ciao. Sarai su YouTube. Max. Nice. Max, guarda la scala. Radio Spazio Blu, Gaeta. Ciao ragazzi. Domattina non ci sei? Sono le due di notte, quindi direi che siamo alquanto tight. È finita anche l'ultima conferenza stampa, ragazzi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Noi speriamo di tornare l'anno prossimo. Tu fa pinta di piangere? Sì. C'è una cosa qua dentro. E qui parte... Aspetta, chi parte? Abbracciateci tutti ragazzi. Dai, abbracciatevi. Abbracciatevi. Ciao. 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 Ciao, caputo. Ciao, ragazzi.